Ok, e allora abbiamo visto gli highlights in riassunto, qua ci sono in mezzo due donne, che non mi dispiace per nulla, due finaliste, Mina Blu e Laura Calafiore, e adesso vogliamo capire, ascoltare, conoscere il verdetto dei nostri due passanti. Meriterebbero tutti, lo so. Abbiamo faticato per spappolare fuori, diciamo. Spappolare, spappolare. Strapolare, estrapolare, estrapolare un nome, vogliamo premiare anche il genere. L'estro, genere e soprattutto, e anche il fatto che in questi due o tre anni, loro ci hanno aiutato a combattere un mostro invisibile, e quindi insomma... Lo specchista. Lo specchista. Emanuele, Emanuele Marchione, Emanuele Marchione, il giocogliere con lo specchio, Emanuele il terzo finalista di questa quinta puntata. Emanuele Marchione, Emanuele Marchione, il terzo finalista di questa quinta puntata, lo ritroveremo alla sesta ed ultima di dalla strada al palco. Ma io chiedo a tutti gli artisti di salire sul palco perché questa è la vostra festa. Come siete? Non ci stanno solo andati tutti a casa, no? Adesso arrivano. Tutti qui, tutti. Ecco i Locomotive Kids. Ecco Rita. Ecco Virginia. Ecco tutti. Lautaro, tutti. Emanuele Marchione.